Panacea Alla ricerca biomedica Dalla cultura a fatti di cronaca Con risvolti etici e religiosi Il tutto attraverso interviste in studio Pillole, strisce di informazione Risposte ai quesiti dei telespettatori Luisa Monini, oltre ad esserne l'autrice Ne cura l'organizzazione e la conduzione Da allora ad oggi sono state mandate in onda Circa 350 puntate 22-24 per stagione In prima serata del sabato E ultimamente del giovedì La trasmissione ha visibilità sul portale Brescia Online All'interno del canale Tempo Libero Dove si possono consultare tutti gli argomenti trattati E conservati in archivio Panacea, oltre che negli studi di Teletutto Viene registrata per particolari occasioni In luoghi diversi come Il Teatro Grande di Brescia Il Teatro Sociale O le Terme di Sirmione Tra gli ospiti che hanno partecipato Alle varie puntate della trasmissione Vi sono personaggi illustri della scienza Come Rita Levi Montalcini Renato Dulbecco Umberto Veronesi Girolamo Sirchia Willy Pasini Giorgio Brunelli Giuseppe Remuzzi Silvio Garattini E tanti altri ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo Come il filosofo Emanuele Severino Vittorio Feltri Luciano Onder Pippo Baud Luisa Monini ha ricevuto per Panacea Importanti riconoscimenti Il premio Ippocrate 2000 dall'UNAMSI E il premio Voltolino 2006 Per la divulgazione medico-scientifica Come premio alla carriera Io appunto le vorrei chiedere quali sono i meccanismi di neurofisiologici e neurobiologici attraverso i quali l'interesse può mantenere il cervello sempre più attivo? Io la ringrazio della domanda e la genialità di mettermi a tutti sanno la mia età molto molto avanzata Beh dal punto di vista fisiologico come anche dal punto di vista di altri organi Quali poniamo tessuti muscolari Sappiamo quanto è importante l'esercizio Nel caso del cervello è immensa l'importanza di mantenerlo in continuo esercizio In questo caso al di là ancora degli altri organi o tessuti Il cervello gode di una formidabile plasticità Più noi utilizziamo le capacità delle quali siamo stati forniti alla nascita Maggiore sono le possibilità di utilizzo Personalmente diciamo è probabile che io non sia il giudice di quel che dico e faccio Ma non ritengo che l'età estremamente avanzata 92 anni tutti li vedono nel mio viso Abbiano molto diminuito le mie capacità intellettuali che ritengo basse Comunque non sono inferiori oggi credo Di quando ero 90 anni E in certo senso questo penso dovuto all'enorme interesse col quale io affronto i problemi E disinteresse a me stessa Quello è importante L'interesse per il lavoro e il disinteresse a noi stessi Ritengo che il disinteresse alla nostra vita Alla vecchiaia, a quello che può capitarsi È tanto importante come l'interesse al lavoro che facciamo Il lavoro mio è scientifico e sociale Nella vecchiaia, che ho raggiunto finalmente da molto tempo Mi dedico a quello che era il desiderio della mia gioventù Non tanto la ricerca, ma problemi sociali Come la lista Luisa, che mi dedico a quelli Con pari attività forse maggiori di quando ero giovane Ero troppo presa dal lavoro scientifico La storia parte da lontano Io mi interessavo dei nervi periferici E me ne interessavo da molto tempo E alla fine degli anni 70 Mi sembrava che i problemi principali della riparazione dei nervi periferici Fossero superati Ma mi restava l'angoscia di vedere i paraplegici Questi giovani che venivano messi in carrozzella in età molto giovane Per traumi di lavoro, di sport, di strada E per i quali non si poteva fare niente Allora e ancora oggi si dice Si insegna che le lesioni del midollo spinale Non possono essere riparate Non possono essere guarite Un po' con un'idea un po' naive Pensando che se i nervi periferici guariscono Perché hanno le cellule di Schwan E il midollo non ha le cellule di Schwan Nel 1980 Misi degli innesti di nervi periferici Nel midollo spinale Da un moncone all'altro Mi scusi Emma Perché secondo lei uno che sente le cellule di Schwan Allora il midollo spinale è tagliato E abbiamo messo degli innesti di nervo periferico Perché quel nervo periferico può guarire In realtà questi innesti venivano riabitati Dalle fibre che scendevano dai neuroni del cervello Ma non appena queste fibre arrivavano alla fine dell'innesto Non andavano più avanti Perché c'è una non permissività del midollo spinale Ecco le cellule di Schwan quindi cosa sono? Le cellule di Schwan sono delle cellule di supporto del nervo che ricresce E poi mielinano il nervo Ok Allora Visto che gli innesti non riuscivano a connettere il moncone alto col moncone basso del midollo Ebbe l'idea di portare per mezzo degli innesti I nervi che scendevano dal cervello direttamente al muscolo Era un'idea molto naif Allora nell'80 io conoscevo poco Ma moltissima gente conosceva poco del midollo spinale E in realtà la cosa funzionò Sembrava un'eresia ma funzionò E quando lo presentai in America Fu considerato una sciocchezza Fu considerato una cosa impossibile Dovete andare a farlo sui primati Perché sui ratti non ha importanza Quelli camminano comunque Il che non è vero Allora non avevamo il permesso di operare sui primati in Italia E dopo varie ricerche Con l'intervento di un amico di Stoccolma Andammo con un'equip tutta bresciana Andammo a Solna Che è un distaccamento del Karolinska E lì operamo i primi 20 primati Con molte difficoltà Dovemmo andare a prima operarli Poi andavamo a vederli Poi dopo un anno andammo a fare il controllo A distanza di tempo Ottenuto questo risultato Bisogna portarlo sull'uomo All'inizio non avevo il permesso di farlo E allora siccome i trasferimenti di nervi Si potevano fare da tempo Pensai di trasferire i nervi Dell'arto superiore all'arto inferiore E operai tre malati in questo modo Il primo fu Angelo Colombo Che è qui presente E che ebbe il merito ed il coraggio Di fare, non diciamo da cavia Ma di fare il pioniere E di consentirmi di fare questi primi interventi Sul midollo spinale dell'uomo Perché non se ne erano mai fatti Angelo Colombo riuscì a camminare Camminava con i nervi del braccio Poi venimmo a Ome E lì potevamo operare altri tre gruppi di primati E con i risultati ottenuti con Colombo E questi ottenuti nel laboratorio di Ome Che poi vedete adesso sullo schermo Ottenne il permesso di operare anche con lo stesso schema Anche Gigliola che fu la prima Che operammo con questo tipo di intervento Anche Gigliola è qui Ecco, ve lo potete vedere Allora, se vuol dire però che l'intervento L'intervento su Gigliola è avvenuto nel 2000 Nel 2000 Nel luglio del 2000 Nel luglio del 2000 E ci vollero parecchi mesi di lavoro faticoso Fatto da lei Per rieducarsi E riuscì ad ottenere Una deambulazione rudimentale Ma insomma Dal punto di vista accademico Meraviglioso Perché non si era mai visto Che una lesione totale del midollo Potesse consentire di ricamminare Anche se male Eh, beh, ci fermiamo qui Perché adesso bisogna continuare Ecco, lì il problema Il problema che rimaneva era Come mai? Perché il nervo che va al muscolo Porta un trasmettitore che è glutamato Che non è quello che i muscoli sono abituati a ricevere Che invece è la sedicolina Ecco, quindi stiamo già andando un attimo in oltre E ci torneremo Invece lei ha nominato il dottor Guarnese Grazie a tutti